Mentre si riprende a vaccinare con AstraZeneca, il taglio di dosi di Pfizer, che ha tolto alla Puglia quasi 5.000 vaccini, costringe al rinvio a data da destinarsi le vaccinazioni riservate alle categorie dei gruppi convenzionati ASL per i servizi di radiologia e fisioterapia, che attraverso la voce dell'avvocato Alessandro Laricchia hanno fatto sentire le loro motivazioni. Voglio portare la mia testimonianza perché ogni giorno noi diamo un servizio alla nostra ASL Bari piuttosto che alla regione, per cui siamo in prima linea contro questo virus, garantendo questi servizi ormai necessari, anche perché se c'è una... veniamo immediatamente a capo del virus e possiamo riuscire a far ricoverare prima i nostri pazienti. Per cui chiediamo ai nostri rappresentanti politici un'organizzazione migliore, perché a causa della mancanza dei vaccini è successo che i piani vaccinali già predeterminati poi sono saltati. Naturalmente capiamo le difficoltà del momento e non siamo lì a puntare il dito, però credo che l'incertezza non faccia bene in questo momento, perché in tutti i settori i politici sono chiamati a organizzarsi per il meglio al fine di garantire certezza. Noi chiediamo solo questo.